e vediamo se è la volta buona benvenuti e bentornati signore e signori oggi sarà un video difficile perché parliamo dell'italia street photo festival ma anche di tutti quanti contest di fotografia in generale e lo farò al mio solito cioè senza toccarla piano perciò mi raccomando sotto nei commenti non siate timidi e ditemi tutto quello che pensate anche ecco il vostro punto di vista che potrebbe essere poco ortodosso dopo la sigla partiamo però dal principio il principio è che mi hanno definito un coglione perché ero all'italia street photo festival pensando anche che io ci avessi partecipato e vi dico subito che è vero che io sono un coglione ma lo sono perché ho venduto la mia telecaster sono un coglione perché non metto mai la cintura di sicurezza perché mi sono maltrattato tutta quanta la vita e perché magari mi piacciono le penne lisce ma non perché partecipo partecipato parteciperò a un contest di fotografia che so già che non vincerò e per la cronaca vi dico anche che io non ho partecipato all'italia street photo festival perché ho sbagliato la deadline ma se avessi partecipato vi confido anche che non sarei stato neppure selezionato tra i finalisti perché ho visto tutte quante le fotografie in gara e credetemi erano tutte quante una più bella dell'altra ma andiamo a noi e proviamo a fare adesso un insieme un discorso critico ma anche costruttivo la street photography non si limita a documentare la realtà ma la trasforma in un palcoscenico dove ogni passante anche soltanto per un istante lo rende il protagonista di una storia molto molto più grande ogni nostra fotografia è un dialogo intimo tra noi che stiamo fotografando il mondo è un ponte tra la realtà come e come invece la vediamo noi una lotta continua tra la luce e l'ombra tra la realtà e la nostra personale percezione rappresentiamo scene di vita interazioni umane strade architetture in modo che raccontino storie oppure che sussidano riflessioni questo è quello che facciamo tutte le volte che usciamo con la macchina fotografica al collo o almeno è quello che ci prefiggiamo di fare ecco ma che cosa succede quando tutti quanti questi nostri scatti si incontrano nei contest di street photographer di street photography scusate ecco così a prima acchitto si potrebbe pensare a questi eventi come a delle semplici competizioni dei palcoscenici per la vittoria e per la sconfitta un podio dove il migliore si aggiudica il primo posto ma la street photography però e me l'avete sentito dire già centinaia di volte non è uno sport dove il risultato è sempre oggettivo magari nello sport c'è anche un po di culo è influenzato anche dalla fortuna però chi arriva primo o segna un punto in più rispetto all'avversario è insindacabilmente sempre il vincitore ma allora vista questa differenza perché sporcare la nostra arte con una classifica nei contest e badate bene che io mi riferisco anche a tutti quanti contest di street photography di fotografie in generale non soltanto all'italia street photo festival oppure a quelli citati da alcuni fotografi più o meno noti perché gli altri contest non hanno valore sono di basso rango e li definiscono anche di basso rango perché magari non li hanno selezionati non li hanno vinti o perché li vincono gli amici di chi li organizza o gli amici degli amici o i clienti di questa o di quella scuola dicono ma i contest di fotografia sono in realtà qualcosa di molto più grande molto più importante di una gara sono sicuramente una lettrina importante per il mercato della fotografia ma di più però sono delle vere e proprie occasioni di apprendimento e di crescita artistica sono delle occasioni per i fotografi di confrontarsi di ispirarsi e di evolversi in un'epoca come la nostra che è completamente digitale che predilige la rapidità e l'efficienza dove l'errore non sembra avere più spazio dove ci fa schifo fallire un'epoca dove ci fa schifo imparare nel modo migliore più naturale che esiste cioè sbagliando e arrivando secondi o addirittura ultimi i contest di street photography ci ricordano il valore inestimabile dell'esperienza diretta ci ricordano il valore del rischio e del fallimento come passaggi necessari per la maturazione artistica e personale sia come fotografi ma anche come uomini ne parlerò meglio e abbondantemente in un altro video più in là ma noi siamo fatti di storie e le storie sono il frutto dell'esperienza e spedire significa assorbire una serie di informazioni non soltanto attraverso la parte razionale e il linguaggio ma attraverso i sensi le euristiche i bias gli errori informazione è memoria e se vogliamo memorizzare bene qualcosa serve coinvolgere il più possibile tutte quante le altre aree del cervello cioè dobbiamo vedere come non funzionano le cose vedere gli imprevisti le variabili e tanti altri cazzi perché se già sappiamo come funziona una cosa ecco smettiamo di pensare e ci perdiamo tutto quanto il resto del viaggio che è sicuramente quello più bello ma ancora di più è quello più educativo e questo è il motivo per cui con questo video non voglio soltanto specificare cosa significa partecipare un contest di street photography ma voglio affrontare anche come perché questi eventi possono arricchire il percorso personale e collettivo dei fotografi riconnettendoci con una tradizione di apprendimento che rischia di perdersi in quest'era così digitale i contest di street photography sono degli eventi dove i fotografi sia amatoriali ma anche i professionisti possono presentare le proprie fotografie a un pubblico più ampio e a una giuria che spesso è composto ovviamente da figure esperte nel campo della fotografia e dell'arte questi concorsi tra di loro possono variare molto in termini di regole di temi e di premi però il loro obiettivo comune è sempre quello di promuovere la creatività e l'innovazione per rappresentare la realtà ecco nel caso proprio dei contest di street photography però non devono essere visti soltanto come delle competizioni perché mentre la competizione può essere sicuramente un incentivo per molti per molti altri invece è un momento di ansia che non li fa sentire proprio a suo agio i contest di street photography invece offrono molto di più di un semplice palcoscenico per la competizione perché come vi dicevo un attimo prima sono delle occasioni dove i fotografi hanno la possibilità di osservare e analizzare il lavoro anche di altri fotografi di ricevere feedback da giudici esperti ma anche dagli altri partecipanti e così rifinire le proprie tecniche e tutte quante le proprie prospettive questi eventi stimolano la comunità fotografica a scambiarsi idee visioni creando un ambiente fertile per l'ispirazione reciproca quello che ho avuto la riprova di costatare infatti è che invece di concentrarsi esclusivamente sulla vittoria i partecipanti di questo contest l'italia street photo festival erano incoraggiati a esplorare nuove tecniche a sperimentare con diversi approcci ma soprattutto a raccontare storie sempre più grandi e significative attraverso le loro immagini guardando proprio le immagini degli altri e questo ovviamente in barba a chi mi ha chiamato coglione l'avvento di internet di instagram e delle tecnologie digitali ha trasformato il modo in cui ci approcciamo alla conoscenza e di conseguenza anche alla conoscenza fotografica siamo in un'era in cui confondiamo la vera conoscenza con il sovraccarico di informazioni senza filtrarle però e scegliere criticamente quali tra queste informazioni che abbiamo dobbiamo interiorizzare e fare nostre con l'accesso a una quantità illimitata di informazioni e di risorse online i fotografi adesso possono migliorare la loro abilità e aumentare la propria conoscenza con una facilità che non ha mai avuto precedenti ma questa facilità di accesso però può anche portare a una saturazione di contenuti e una percezione che il successo sia rapido e sia facile da ottenere per non parlare poi anche della possibilità di condividere immediatamente il proprio lavoro sulle piattaforme globali che ha sia ampliato il pubblico accessibile ai fotografi però ha anche modificato le aspettative in termini di riconoscimento e feedback delle fotografie e questo ovviamente ha influenzato anche il modo in cui i fotografi percepiscono il loro successo spostando così l'attenzione dalla capacità personale alla gratificazione immediata nell'arte della fotografia come in molti altri campi creativi l'errore è una componente fondamentale dell'apprendimento nonostante la cultura digitale contemporanea penalizzi spesso l'errore promuovendo una ricerca costante della perfezione del successo immediato è proprio attraverso i tentativi gli errori e le che un fotografo realmente matura e affina la propria visione artistica viviamo su modelli di persone che ce l'hanno fatta su fotografi che sono arrivati e quindi ce la posso fare anch'io ma si chiama survivorship bias non si contano i morti l'esperienza diretta fatta di prove fatta di errori di riflessioni rimane comunque insostituibile nel processo creativo di ognuno e questi contest offrono proprio un'opportunità unica per imparare a gestire il successo ma soprattutto anche il fallimento insegnandoci a sviluppare anche una resilienza e una profondità artistica che sono un miraggio nei percorsi pienamente puramente teorici e digitali partecipare a un contest di street photography offre ai fotografi un'occasione per valutare il proprio lavoro attraverso i propri occhi ma anche attraverso i propri occhi che guardano il lavoro degli altri sono un'occasione per imparare da diversi punti di vista da diverse interpretazioni artistiche da diverse tecniche e per mettere alla prova le proprie abilità in un ambiente che è sfidante e parlate bene che ho detto sfidante sì perché è costruttivo e diventa costruttivo vedendo come gli altri artisti risolvono problemi simili oppure esprimono temi comuni ecco i partecipanti così possono scoprire dei nuovi metodi e delle nuove ispirazioni per il proprio lavoro senza contare anche che il feedback ricevuto durante questi eventi può aiutare i fotografi a identificare i propri punti di forza e le aree di miglioramento nei loro lavori incoraggiandoli a superare i propri limiti ad aspirare a una continua crescita artistica che in teoria non dovrebbe mai fermarsi pensati così contest si trasformano in un laboratorio di apprendimento dove l'obiettivo non è più vincere ma evolversi come narratori come fotografi e soprattutto come individui nell'era pre digitale le abilità di un artista oppure di un artigiano prendevano forma lentamente attraverso un costante percorso di esperienza diretta il fotografo di strada per esempio passava giorni e giorni in solitudine tra le strade affinando proprio la sua capacità di osservare e di conseguenza la popolarità e il riconoscimento derivavano direttamente dalla maestria della propria arte e dalla capacità di raccontare delle storie che parlassero direttamente al cuore delle persone che guardavano le fotografie adesso invece sembra che il valore si sia un pochettino ribaltato perché la popolarità spesso precede la competenza in alcuni casi addirittura la sostituisce le piattaforme social hanno trasformato il modo in cui le fotografie vengono esposte e vengono apprezzate privilegiando la quantità di mi piace delle condivisioni rispetto alla vera qualità delle stesse fotografie e questo ha portato non soltanto un appiattimento degli stimoli creativi ma anche una presunzione a una presunzione generale di competenza che è basata più sulla visibilità che sulla sull'effettiva abilità artistica del fotografo si chiama effetto danni in kruger e ne abbiamo già parlato i contest di street photography intesi così invece ci offrono una grande possibilità di riflessione perché possono essere visti come un ritorno alle origini un modo per riconnettere il valore della popolarità a quello delle abilità reali e attraverso proprio questi eventi la community fotografica l'opportunità di rivalutare l'importanza dell'esperienza diretta e dell'errore che sono sempre elementi fondamentali per una crescita autentica e reale ora voglio concludere facendovi una domanda e cioè in un mondo dove l'apprezzamento può essere misurato in numeri quanto siamo veramente disposti a rischiare a sbagliare a diventare ultimi per crescere per davvero un po più di umiltà please che tutti quanti me compreso siamo nessuno e abbiamo ancora tutto quanto da dimostrare prima di poter chiamare qualcuno coglione ok siamo arrivati alla fine non l'ho mai fatto ma lo faccio oggi per la prima volta e faccio i ringraziamenti voglio ringraziare prima di tutto officine fotografiche gli organizzatori del festival tra cui stefano mirabella per l'accoglienza e per avermi regalato due giorni di sberle sia nel bene ma anche nel male grazie poi a gialluca dei dominici di the street trover per avermi regalato una cosa che oggi è più importante dei bitcoin e cioè la stima e per non odiarmi per la mia cattiva ospitalità io ho cucinato pasta al limone perché il mio frigorifero c'era l'eco ma un grazie di cuore va anche a gianmarco venturi perché prima ancora di essere un fotografo eccezionale è una persona eccezionale e lo dimostra il fatto che ad accogliermi a roma ho trovato soltanto fotografi e persone che non finirò mai di ringraziare abbastanza come per esempio massimo gaetano arianna speranza alessandro de luigi fabrizio azellini fabbio renzi ugo villani ivana apoliti e altri 45 compagni di viaggio con cui abbiamo condiviso la peggiore carbonara di roma e che dio in questo caso perdoni lo chef ma un grazie va anche ad annafrosio a marco rottigni rene monti torino mirto enzo zevini emanuele andreozzi e vincenzo miere per avermi dato l'ennesima prova che f4 è molto diversa e molto di più da quello che c'è in giro e per finire ma non per ultimo grazie anche a walter perché esiste ed è pure simpatico ecco io sarò anche un gran coglione ma esperienze così non rinuncio per niente al mondo ciao e alla prossima settimana